Benvenuti al ristorante dall'imprenditore imbufalito. Lo chef propone artigiani novelli fritti, tenerissimi. E poi l'ottimo bollito di professionista. L'osso buco di imprenditore alla milanese, l'artigiana frollata a 30 giorni e la nostra specialità, l'imprenditore flambé. Voilà! Se sei un imprenditore e ti senti spolpato, non arrenderti. Entra in CNA, cna.it